Ora, bene, buonasera a tutti, mi fa essere con voi stasera, diceva Serena con il gruppo di Firenze, appunto ho avuto diversi appuntamenti e adesso a livello nazionale è ancora più piacevole questo appuntamento. Beh sì, in effetti appunto Serena mi aveva chiesto di una preparazione riguardo appunto alla Pasqua, dato che siamo appunto alla vigilia della Settimana Santa, praticamente domani sera inizia la Domenica delle Palme e poi si entra nella Settimana Santa. Ecco, pensavo di riflettere con voi proprio su questa, dato che il Vangelo di Marco è il Vangelo che quest'anno ci aiuta nel cammino verso l'anno liturgico. Ecco, vorrei cogliere il, come dire, il nodo, il punto centrale del Vangelo di Marco che appunto, io l'ho intitolato il grido del crocifisso, perché appunto nel Vangelo di Marco si sottolinea proprio questa dimensione per quanto riguarda la passione di Gesù, però chiaramente vorrei inquadrare un po' il tema, eh, in modo tale da riflettere sul sulla dimensione della croce e della risurrezione, anche se la risurrezione rimane sullo sfondo, però ecco, alla luce un po' di quella teologia che oggi è fondamentale, è importante ed è la teologia della solidarietà, potremmo dire, della solidarietà con i crocifissi della storia. Quindi passare, il mio intervento vuole essere questo, passare da quella che è per certi aspetti ancora presente, la teologia della sofferenza alla croce come espressione della solidarietà di Dio con gli uomini. Quindi è un po' questo il tema. E tutto questo appunto lo riassumo in questa figura del crocifisso, del grido del crocifisso. Beh, innanzitutto, introduzione. L'introduzione è questa, dovete avere presente che il Vangelo di Marco, il Vangelo di Marco lo possiamo rappresentare come un ponte, un ponte con due campate, un ponte che potremmo dire il primo versetto, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Il Vangelo di Marco inizia in questo modo. L'altra parte, questo è il punto iniziale, il ponte da una parte. L'altra parte è quando il centurione, quando il centurione dice, alla morte di Gesù, veramente quest'uomo era figlio di Dio. Ecco, nel mezzo, c'è il pilone nel mezzo, è il brano di, a metà, capisce, chi dice la gente che io sia. E voi chi dite che io sia? E tu sei il Cristo, no? Dice Pietro. Ecco, il Vangelo di Marco è costruito secondo questa logica, la logica del voler far vedere chi è il figlio di Dio. e il figlio di Dio appare, cioè, si manifesta proprio nell'umanità di Gesù. Il Vangelo di Marco è il Vangelo che ci presenta l'umanità di Gesù nella maniera più cruda, più immediata. Cardinale Martini diceva del Vangelo di Marco, è il Vangelo del Catecumeno, perché il Vangelo del Catecumeno, perché è il Vangelo di chi impatta Gesù quasi per la prima volta e viene quasi sconvolto dall'umanità di questa figura. Rispetto, poi ci sarebbe il Vangelo della Chiesa, che è il Vangelo di Matteo, il Vangelo del Missionario, che è il Vangelo di Luca, e il Vangelo spirituale, il Vangelo del Mistico, è il Vangelo di Giovanni. Cardinale Martini dava questa, come dire, i Vangeli vanno seguiti secondo quest'ordine. Ecco, quindi impattare il Vangelo di Marco per ciascuno di noi, anche se non siamo catecumeni, ma siamo cristiani da decenni, vuol dire ritrovarsi sempre di fronte a una figura che ci inquieta, nel senso che ci mette davanti la sua umanità, la sua umanità drammatica, e lo vedremo proprio in questo brano, nel brano della sua morte. Quindi teniamolo, questo aspetto teniamolo presente, teniamo presente come dire, quasi a dire, io probabilmente Gesù non lo conosco ancora, non lo conosco fino in fondo, forse non lo conoscerò mai fino in fondo, perché sono confrontato con la sua umanità che viene a interrogarmi profondamente. Ok? Bene. Voi sapete che il Vangelo di Marco è il Vangelo più antico, è il primo, è il primo dei Vangeli, e appunto essendo il primo dei Vangeli ha questa caratteristica, la caratteristica appunto di mostrarci l'umanità di Gesù e un'umanità che passa attraverso le sue scelte. Cosa fa Gesù nel Vangelo di Marco per lo più rispetto agli altri Vangeli? Incontra l'umanità, si avvicina agli uomini, si fa cura i malati, tocca quelli che nessuno toccava, si siede a mensa con i peccatori, restituisce la dignità alle persone escluse. E questo traspare continuamente. Per cui è chiaro che da subito si percepisce nel Vangelo di Marco come questa figura diventa una figura pericolosa, per cui lo si deve eliminare. La sua esecuzione nel Vangelo di Marco non è, come dire, un errore, una sfortunata coincidenza di circostanze. È tutto ben calcolato, nel senso che un uomo così pericoloso, in una società che è estremamente gerarchica, elitaria, divisiva. Ecco, quest'uomo deve essere tolto di mezzo. Per cui, ecco, questo lo vedrete anche domenica prossima se partecipate alla messa, la passione è tutta incentrata molto sul processo. Perché? Perché i primi cristiani che si confrontano con questi eventi si rendono conto che questi eventi non sono così casuali. Sono qualcosa di molto profondo. Vogliono raccontare qualcosa che, come dire, che rimane dentro l'esperienza di fede. E cosa rimane dentro l'esperienza di fede? Rimane l'esperienza di questa figura, di quest'uomo che, appunto, progressivamente si manifesta come figlio di Dio, ma si manifesta come figlio di Dio a chi? Chi è che lo riconosce come figlio di Dio? I suoi discepoli? No, un pagano. Un pagano. Perché veramente quest'uomo era figlio di Dio? Chi lo dice? Lo dice il centurione sotto la croce. Non lo dicono i suoi discepoli. E questo diventa veramente, come dire, è un fatto, è un fatto importante perché, appunto, ci fa vedere come, come la vicenda di quest'uomo, che appunto viene riconosciuto come figlio di Dio, è una vicenda complessa. Che coloro che gli sono vicini non lo hanno capito? Questo ci interroga profondamente, anche noi, anche noi oggi, a duemila e più anni di distanza da lui. Noi che siamo i vicini, forse lo abbiamo capito. Ecco, ecco, questo è quindi il Vangelo di Marco è situato dentro la tradizione e il canone della Chiesa con questa, come dire, con questa forza. Chi è Gesù? Chi è Gesù? Il figlio di Dio? Chi lo riconosce? Chi lo accoglie? Ecco allora, passo a, questa era un po' l'introduzione. Passo al primo punto. Il primo punto vuole mettere in evidenza appunto questo gesto, il gesto supremo che Gesù compie, questa fine violenta. Gesù mette in conto la possibilità di una fine violenta. A un certo punto si legge nel Vangelo che Gesù si dirige a muso duro. La traduzione italiana è banale, ma la traduzione greca è molto forte. Gesù si dirige a muso duro verso Gerusalemme. Quindi sa di andare verso la fine. Chiaramente non era un ingenuo, quindi sapeva a che cosa si esponeva continuando a insistere sul suo progetto di regno di Dio. Un progetto di regno di Dio che è appunto una vita dedicata ai poveri, cioè a coloro che non sono riconosciuti, ai peccatori. Certamente Gesù non è un suicida, non cerca la crocifissione, non ha mai voluto la sofferenza né per gli altri né per se stesso. Per tutta la vita si era dedicato a combatterla. Dove la incontrava? Appunto nella malattia, nelle ingiustizie, nel peccato, nella disperazione. Per cui anche la fase finale non è un correre dietro la morte, però neanche si tira indietro. Lui appunto aveva accolto i peccatori, gli esclusi e chiaramente il suo atteggiamento aveva irritato gli uomini del Tempio e se alla fine lo condannano, appunto lo condannano come un delinquente, come un escluso. Ma la sua morte conferma ciò che è stata tutta la sua vita. Cosa è stata la sua vita? La sua vita è stata l'annuncio del regno di Dio, cioè la fiducia totale in un Dio che non esclude nessuno dal perdono, ma anzi è accolto in questo regno, cioè in una relazione, in una esperienza di relazione nuova. Perché? Perché è all'insegna della misericordia. E quindi continua ad annunciare l'amore di Dio per gli ultimi, identificandosi appunto con i più poveri. E questo appunto dà fastidio agli ambienti vicini al Tempio e al governatore romano. E se lo giustiziano con il supplizio della croce, che era appunto il supplizio riservato agli schiavi, anche lui appunto muore come uno schiavo disprezzato. Ma questa morte sta a indicare la sua fedeltà a Dio. E a un Dio che non è un Dio generico, ma è il Dio difensore delle vittime. Quindi ecco che Gesù, appunto, la sua morte va vista dentro tutta questa vicenda. Cioè non è staccata da tutto quello che Gesù è. Perché appunto Gesù è pieno dell'amore di Dio e continua appunto a dare e a offrire salvezza a tutti. Appunto esclusi, emarginati, dona il perdono gratuito ai peccatori, alle persone perdute. E questo comportamento salvifico appunto è ciò che conduce alla sua morte. Per cui questo gesto supremo, la croce, è un gesto che rimane permanentemente come la testimonianza di colui che, annunciando il regno di Dio, concretamente ci fa vedere chi è Dio. Dio è misericordia, Dio è perdono, Dio è vicinanza verso gli ultimi. E allora, secondo punto, che cos'è la croce? La croce ha un significato ben preciso. La croce sta a indicare il fatto che Gesù affronta la morte partendo da un atteggiamento di totale fiducia nel Padre. Quindi va verso la morte convinto che la sua esecuzione non potrà impedire la venuta del regno di Dio. Anzi, la sua morte è già in qualche modo manifestazione del regno di Dio. Qui io prendo nettamente le distanze da quello che dice Vito Mancuso nel suo ultimo libro, I quattro maestri, dove presenta questi quattro grandi maestri dell'umanità, Socrate, Buddha, Confucio e Gesù. Dove dice Gesù chi è? Gesù era un illuso, uno che pensava che con la sua morte si scatenasse l'inferno, nel senso che si realizzasse una rivoluzione tale tra i suoi discepoli, in modo tale che si potesse affermare il regno di Dio. Però non è avvenuto niente di tutto questo. Quindi Gesù è morto totalmente in vano. Questa, capite, è la posizione di un pensatore, molti lo definiscono teologo, certamente non è teologo della Chiesa Cattolica, ma comunque è un pensatore che vede nella morte di Gesù soltanto una vicenda storica, come dire, finita male, finita male, è andata male. Ecco, non è questo chiaramente, no? Cioè la morte di Gesù è il fatto che il regno di Dio si è realizzato, proprio in questa morte, perché appunto Gesù manifestando questa totale fiducia al Padre, questa fiducia totale al Padre è ricompensata, potremmo dire, con la risurrezione. E certo per Vito Mancuso la risurrezione non esiste, è una bella immagine retorica. Per un credente credo che la risurrezione appunto diventa la conferma di questa fiducia totale. E allora ecco che il regno di Dio si è inaugurato. Certamente non si è compiuto. Il compimento è alla parousia, è al termine. Quando Gesù si manifesterà di nuovo, allora sarà il compimento. Ma tra il fatto che il regno di Dio si è già manifestato nella croce, ma non ancora compiuto, in questo c'è tutta la, come dire, c'è tutta la forza e la speranza cristiana di affrontare la storia, affrontare le vicende drammatiche che ci stanno davanti. C'è una bella immagine di un teologo che si chiama Oscar Kuhlman, il quale usa una bella immagine, dice la croce è stata un po', come dire, nella croce Cristo ha vinto, ha vinto il mondo, la morte, l'ha vinta e ha combattuto la battaglia definitiva. Ma la battaglia definitiva non è la guerra, non è la vittoria della guerra. La guerra è alla fine, la pace, la pace finale è l'escaton, è la pienezza, è la pienezza quando Gesù si manifesterà di nuovo. Quella è la pace definitiva. Però la battaglia fondamentale è stata vinta sulla croce da Cristo. Ecco allora che il credente affronta la storia con la forza che viene da questa croce. Perché la battaglia è già stata vinta, la morte è già stata sconfitta, il male è già stato debellato nella croce. Quindi il compito nostro di cristiani è quello di corrispondere a questa croce, cioè affrontando e lottando contro ciò che è male, contro il negativo della storia. Non stando ad aspettare, come dice Papa Francesco, un certo cristianesimo gnostico che guarda alla finestra vedendo il bene e il male che confliggono fra loro. E stando così ad aspettare, qualcosa succederà. Questa, dice Papa Francesco, quando venne a Firenze nel 2010 al convegno della Chiesa italiana, no scusate, 2015, il convegno lo disse chiaramente, no? Un pericolo oggi del cristianesimo è l'agnosi. L'agnosi vuol dire appunto questa visione per cui il bene e il male sono due forze che confliggono fra loro. E no, e no. Il cristiano non è un ognostico. Il cristiano è uno che è convinto che il male è già stato sconfitto dalla croce. Quindi il nostro agire nella storia è un agire positivo contro ciò che è negativo. È una forza, è un attraversare la storia con la convinzione che il male è sconfitto. Non come appunto fanno tanti cristiani che cominciano a dire, ah, ma dove si andrà a finire? Che cosa succederà? Ah, e vedono tutto nero, no? Vedono tutto buio davanti, per cui cominciano a rivolgersi a segni strani. L'unico segno che ci è dato è la croce di Cristo. Non abbiamo altri segni. Capite? Non c'è da aspettare altri segni. Abbiamo la croce di Cristo. È quello il segno con cui noi cristiani siamo chiamati a vivere la storia. Per cui non ho bisogno di rivelazioni, voci o chissà quale altre cose. Ho solo bisogno di avere la croce di Cristo come forza che mi dice di attraversare il baratro della storia. Questo sì. E allora ecco che, capite, la croce diventa la memoria diventa la memoria dei crocifissi. Perché? Perché, appunto, perché la croce di Cristo poi si ripercuote e si ripresenta dentro le vicende storiche, là dove i crocifissi ancora sono crocifissi cristiani, ma non solo cristiani, eh? Crocifissi anche dell'umano, dell'umano, che vengono appunto, che vengono appunto minacciati, che vengono emarginati, che vengono esclusi, che vengono condannati, che vengono innocentemente. Nei confronti di tutti questi crocifissi della storia, noi credenti, il cristiano è colui che sa che, alla luce di quella croce, della croce di Cristo, noi dobbiamo essere solidali con quella realtà. Quindi, e questo diventa una sfida radicale per la fede, no? Cioè, diventa qualcosa di molto, molto coinvolgente, soprattutto perché oggi il cristianesimo, soprattutto il cristianesimo del vecchio continente, dell'Europa, è un cristianesimo totalmente privatizzato, privatistico, in cui, come dire, vive, la fede viene vissuta nel proprio piccolo orizzonte e, come dire, senza capacità di progettare futuro, di progettare una speranza, qualcosa che mi fa guardare oltre il privato. Questo è quello che Papa Francesco mette in evidenza nell'Evangelii Gaudium, perché Papa Francesco parla di una chiesa in uscita. cosa vuol dire una chiesa in uscita? Che non è una chiesa missionaria, eh? Mi raccomando, attenzione. La chiesa missionaria è un conto. La chiesa in uscita è la chiesa che si fa carico innanzitutto delle sofferenze dei crucifissi, quando parla nell'Evangelii Gaudium della chiesa come ospedale da campo. Papa Francesco ce l'ha queste immagini un po', come dire, che colpiscono, no? Non è la chiesa missionaria. La chiesa missionaria è la chiesa che annuncia il Vangelo, ok? La chiesa in uscita è la chiesa che si fa solidale con le sofferenze della storia. storia. Chiaramente annuncia il Vangelo, ma lo annuncia con i fatti, non lo annuncia con le parole. Lo annuncia innanzitutto stando lì e accudendo quelle sofferenze, che sono le sofferenze appunto delle persone, come dicevo prima, non considerate, non emarginate, non amate. Le ferite profonde dei non amati, che sono ferite laceranti. Tante persone vivono questa radicale lacerazione perché non sono state profondamente amate e riconosciute. ecco perché appunto in questa Europa, un vecchio continente, è sempre più grande la tentazione di una religione dal carattere, come dire, tranquillizzante, estetico, estetizzante, fatta di belle celebrazioni, ora meno perché la situazione è quella che è, ma comunque che non considera certe sofferenze, certe paure. E poi soprattutto una chiesa che non inquieta più nessuno, perché non possiede nessun incentivo, perché ha perso questa memoria della croce come qualcosa che invece ci spinge a essere solidali con l'umanità sofferente. Ecco da qui la necessità di piantare nuovamente al centro del cristianesimo la croce, o come dicono alcuni, tornare a Gesù, tornare a Gesù, perché vuol dire tornare al Vangelo, e al Vangelo nella sua forza propulsiva, come memoria commovente di un Dio crocifisso. E quindi ricordo permanente di tutti quelli che soffrono, e soffrono in modo innocente, in modo ingiusto. Per cui il grido del crocifisso non è un grido virtuale, ma introduce nelle nostre vite e nella nostra spiritualità il dolore, l'avvicinanza con tutte le vittime, appunto, abbandonate, dimenticate o lasciate alla loro sorte perché tanto è così. E invece non possiamo dire che non abbiamo più una visione. Adesso le conosciamo certe dinamiche, no? Vediamo che le ingiustizie hanno nome e cognome, e di fronte a queste, come credenti, dobbiamo agire in un determinato modo. Per cui in questo Dio crocifisso c'è tutta la grandezza, ma anche tutta la vulnerabilità del cristianesimo. Anche Buddha si incontra con la sofferenza umana, ma si rifugia nella propria interiorità, vivendo una mistica dagli occhi chiusi. Se voi vedete il Buddha raffigurato come lo vedete raffigurato, in meditazione con gli occhi chiusi. Gesù, al contrario, vive invece una mistica dagli occhi aperti. Aperti dove? Sulla sofferenza verso le persone, quindi una attenta e responsabile è azione nei confronti di chi soffre. Ecco che alla luce di tutto questo è importante rileggere il passaggio dalla teologia della sofferenza alla teologia della solidarietà, cioè della vicinanza, della misericordia, della compassione. Perché è importante questo passaggio? Beh, perché nel nostro passato siamo tutte persone con i capelli bianchi e quindi veniamo da una formazione cristiana molto tradizionale. Ecco, nella formazione cristiana tradizionale che abbiamo ricevuto, che cos'era la croce? La croce era considerata come un negoziato tra Gesù e il padre per ottenere la salvezza dell'umanità, una specie di contratto tra il padre che esige dagli uomini una riparazione infinita per il peccato commesso da Adamo. E chi era capace di soddisfare Dio con questo peccato infinito che è stato quello di Adamo? Il figlio. Il figlio disposto a donare la propria vita. Il figlio, la propria vita, un valore infinito, ha donato la propria vita per la salvezza degli uomini. Ecco, questa teologia che è stata straordinariamente forte e presente nel Medioevo, un nome per tutti Anselmo d'Aosta, grande teologo medievale. Bene, questa teologia basta, è finita, basta. Ok? Perché è una teologia che non ha alcun senso. Perché non ha senso? Perché ha sviluppato... è una teologia che ha sviluppato una visione della sofferenza come uno scotto da pagare. Se vogliamo essere salvati da questo Dio, dobbiamo soffrire anche noi come ha sofferto Cristo sulla croce. Questo non va bene. Questo non va bene. Perché non è così. Questa è una ideologia medievale, appunto, e appunto Anselmo l'ha ben codificata, ma non è assolutamente il Vangelo di Gesù. Non è assolutamente il Vangelo di Gesù. Per cui, ecco, la croce non è un sacrificio di espiazione. La croce non è un sacrificio di espiazione. Però ancora è rimasta questa mentalità, purtroppo. Anche perché, appunto, spesso una dottrina viene... poi teniamo conto, e penso anche voi conoscete, che già all'interno della Chiesa Cattolica ci sono movimenti tradizionalisti che, come dire, non si sganciano da questa visione medievale. Lefebriani, ex lefebriani, che dentro questa visione ci sguazzano, ci sguazzano veramente. E quindi non sono pochi ancora i cristiani che pensano che Dio abbia esigito la rovina del Figlio come condizione indispensabile per la salvezza degli uomini. Però, capite bene, in questa visione non ci si rende conto che in questo modo resta radicalmente pervertita l'immagine di Dio. Perché, capite bene, questa immagine non è l'immagine di un padre che perdona gratuitamente, ma è un creditore implacabile, è un giustiziere che, appunto, che vuole il sangue. Vuole il sangue. Vuole il sangue del figlio e vuole i sacrifici dei cristiani. Sacrifici nel senso di, eh, eh, se ti è capitato questo, eh, la croce che devi portare. Ti è capitato quest'altro, eh, la croce che devi portare. Ti è capitato questo, eh, la croce che devi portare. No! La croce, senza l'amore, è vittimismo allo stato puro. È vittimismo allo stato puro. Per cui, capite bene, che questa visione è una visione tutto sommato perversa. Perché, appunto, non è la non è la prospettiva che che ci ha mostrato Gesù. Quindi è una maniera, direi, fondamentalmente falsa di intendere la croce. E può portare molti, come del resto molti li ha portati, ad allontanarsi da un Dio sadico che pare, appunto, placarsi solo se vede sangue, solo se vede, eh, solo se vede sofferenza, solo se vede lacrime. Questo è, questo è, questo è, questo è stato devastante. A me piace molto un, un, un antropologo, eh, che si chiama René Girard, il quale ha messo in evidenza come il cristianesimo, lui ha scritto, lui ha proprio fatto vedere come le religioni si sono basate tutte, tutte, sul capro espiatorio. Tutte le religioni, all'inizio, nelle grandi civiltà, all'inizio dell'umanità, della storia, si sono basate tutte sulla, sul capro espiatorio. Cioè, la religione serviva, nel mondo antico, a placare la conflittualità tra le persone. In che modo? Appunto, con ritualità, con una gestione del sacro, caratterizzata dal capro espiatorio. Cioè, le colpe del, del, delle, della società le scarichiamo su un simbolo, che era, solitamente era un capro. Cioè, era un animale che simbolicamente gli venivano, come dire, caricate tutti i peccati e poi veniva ammazzato o mandato nel deserto, no? E ho lasciato... E così si placava, con questa ritualità, si placava il conflitto nella società, che però durava quanto? Un po' di tempo. Dopodiché, di nuovo da capo. E allora si riammazzava un altro capro espiatorio. E tutto andava avanti così. Ecco, questo autore, lui, questo lo ha scritto tre bellissimi libri, La violenza e il sacro, delle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo e il capro espiatorio. È una trilogia splendida, un po' difficile, ma splendida, in cui lui fa vedere come tutte le religioni si sono basate sulla violenza. Ecco, e lui ha detto il cristianesimo no. Il cristianesimo è la religione che invece ha messo fine alla logica del capro espiatorio, perché Gesù non è voluto andare a morire sulla croce, ma c'è andato volontariamente, lo ha scelto, nel senso che ha, proprio per la fedeltà al Dio della misericordia e dell'amore, lo ha scelto e così, con questa sua scelta, ha messo fine al capro espiatorio, al sacrificio. Perché? Perché sulla croce ha mostrato che Dio non è colui che vuole il sacrificio, ma è colui che vuole amore. E non a caso Girard, una volta che ha, come dire, elaborato questo aspetto, si è convertito al cattolicesimo. Lui era ateo, non credente, e lo ha trovato talmente straordinario che ha detto veramente il cristianesimo è la vera religione. Ma perché? Perché è la religione dell'amore. Ed è la religione appunto che, per cui Gesù non è un capro espiatorio, ma è colui che, con la sua morte, ha detto fine ai capri espiatori. Adesso c'è solo l'amore da mettere in atto. E questo io credo che sia una cosa straordinariamente importante, cioè che anche l'antropologia, che le scienze sociali, le scienze umane hanno elaborato questa visione del cristianesimo, perché poi è la prospettiva che, appunto, troviamo veramente al cuore del Vangelo. Quindi, se Cristo muore sulla croce, non è perché ciò venga, come dire, da un Dio, come dire, che chiede il sangue. Ma se Cristo muore sulla croce, è perché Dio resta saldo ad essere un Dio di amore, di un amore infinito verso gli uomini, persino quando costoro gli uccidono il figlio. Il figlio amato. Tu sei il mio figlio amato. In te ho trovato compiacimento. Quindi è il figlio amato. E gli uomini glielo amazzano. E Dio continua ad amare gli uomini, nonostante gli abbiano ammazzato il figlio. Quindi non è un Dio a cercare la morte, la distruzione di qualcuno, ancor meno la distruzione di Gesù, ma sono gli esseri umani a distruggere e a uccidere persino il figlio. E Dio solo avrebbe voluto evitarlo. Avrebbe potuto evitarlo, ma però non lo ha fatto, perché avrebbe annullato la libertà degli uomini. ma per il suo amore insondabile per l'essere umano, un amore che non ha fine, Dio è pronto anche a vedere il figlio consegnato sulla croce e continua attraverso questo figlio a salvare l'umanità nell'amore, con una dimensione di dono di sé. E allora ecco che questo diventa, direi, la prospettiva che inaugura un cristianesimo, una fede radicata nell'amore di Dio. Una fede radicata nel riconoscere che l'uomo ha bisogno di questo amore. Se vuole convertirsi dalle sue violenze, dalle sue emarginazioni che produce, dai crocifissi che continua a innalzare dentro la storia. L'uomo ha bisogno di questo amore. E questo amore glielo possiamo soltanto manifestare noi oggi, nella nostra umanità. Noi cristiani che crediamo in questo Dio di amore. Siamo noi che dobbiamo manifestare questo amore. Non c'è altri che lo devono manifestare. Da come vi amerete sapranno che siete miei discepoli. Grazie. Mi fermerei qui. Grazie. Grazie.